È innegabile che il nostro mondo sarà sempre più di fatto impattato da quella che è l'evoluzione tecnologica e in questa evoluzione tecnologica non possiamo non annoverare l'intelligenza artificiale. Come aziende però da una parte dobbiamo assolutamente abbracciare il cambiamento, capire dove ci può portare e dall'altra parte però intercettare a quelli che possono essere i possibili rischi. Uno a me particolarmente caro è quello del deskilling e proprio per questo, proprio perché poi l'azienda che rappresento ha un cuore centrale in quello che per noi è il cervello, il fatto di poter investire invece sulle skills, sulle competenze delle nostre persone per renderle sempre capaci di utilizzare gli strumenti sarà fondamentale. Giornate come oggi che il presidente Fatali diceva in realtà non è stata una giornata ma è sembrata una giornata, cioè due ore straordinarie di connection, di connessioni, visto che parlo di cervello parlo di connessioni anche neurali, di connessioni con realtà totalmente diverse da quella che è l'Undec come azienda farmaceutica, sono momenti di arricchimento straordinario, sono momenti in cui si impara, sono momenti in cui ci si confronta, sono momenti in cui ci si riflette, io ho preso un sacco di appunti che rimetterò a carta, sto iscrivendogli quando tornerò a casa perché è veramente stato per me un momento di formazione nonché di networking, quindi grazie SEO4Life per quello che fa quotidianamente perché tutti noi abbiamo un ruolo e veramente l'Unione in questo caso fa la forza.